Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Come potete già immaginare, siamo di fronte, vabbè, sia perché è scritto nel titolo del video ovviamente, e sia perché vedete già questa schermata, siamo di fronte al trailer di presentazione ufficiale di questo crossover che arriverà praticamente il primo novembre su Final Fantasy VII per Crysis. È una collab di cui già sapete cosa penso. Perché una collab a ridosso di quest'anniversario, sinceramente, non me la sarei aspettata, né tantomeno l'avrei voluta, se devo essere sincero, proprio per poter comunque raccimolare risorse per spendere poi successivamente. Ho già visto il trailer, in realtà, perché l'ho visto con i ragazzi su Discord, però ci tengo anche a fare una sorta di mini reaction insieme a voi, che magari guardate i video insieme a me, e soprattutto vorrei dirvi cosa ne penso in generale di questa collab, e specialmente in base alle armi che si vedono all'interno di questo trailer, darvi anche una visione generale di quelli che potrebbero essere i banner. Detto ciò, guardiamo il video. Prima lo guardiamo, così, di botto, poi dopo lo analizziamo frame dopo frame, giusto per capire un pochettino quello che c'è all'interno del gioco. La presentazione è bellissima, dove qui fanno vedere i protagonisti di questo crossover con tanto di boss evento, che in questo caso è per l'appunto Kefka, ma mi sembrava abbastanza palese. Quindi Eris col vestito di Terra, Cloud invece con il vestito di Lok, Pifa, che invece è con l'uniforme di Sabine, che ci sta da Dio tra l'altro, è bellissima, e poi Sephiroth col vestito di Edgar, che a mio avviso esteticamente parlando è quello più bello, se devo essere sincero. E poi abbiamo il boss Kefka, che sarà il boss appunto che affronteremo in questa collab, con le varie difficoltà, con le varie robe, eccetera, eccetera. Anche le crash probabilmente metteremo in mezzo, e tutto quello che è. Ok, quindi questo è il trailer, e devo dire che comunque il trailer a me piace tanto, è stato veramente ben realizzato. Ovviamente chi lavora dietro al marketing, o comunque chi lavora dietro a tutto ciò, fa comunque un bel lavoro, perché ci vende un qualcosa che possibilmente neanche vorremmo, detto tutto sommato. Invece con questo trailer, con questi outfit, con tutto ciò che si vede, devo ammettere che comunque la curiosità c'è. Ma, se andiamo a vedere nel dettaglio, ovviamente, tutto quello che è il trailer, abbiamo questa prima parte, ovviamente dove abbiamo i quattro protagonisti, quindi Cloud, Tifa, Eris e Seppo, e ovviamente anche Kefka. Da un lato, sono, tra virgolette, anche stanco di vedere sempre gli stessi personaggi, non so se qualcuno può essere d'accordo con me. È vero che, Final Fantasy VII ha i suoi poster boy, e le sue poster girl. Infatti abbiamo Eris e Tifa, praticamente sempre in prima pagina, e Sephiroth e Cloud, che prendono buona fetta di quella che è, praticamente, la maggioranza dei contenuti per quanto riguarda i maschietti. Anche se abbiamo un Zack, che è stato sfruttato poco, e soprattutto abbiamo sfruttato poco anche i personaggi di First Soldier. I First Soldier, i personaggi di First Soldier non hanno mai partecipato a una collab. E questa cosa un pochettino mi dispiace, specialmente per Matt, che comunque come personaggio all'interno del gioco, a mio avviso, è praticamente uno dei più forti, se non il più forte dopo Eris in questo momento, perché Eris, dopo la collab, cioè dopo la collab, diciamo dopo l'anniversario, per essere più precisi, è diventata, cioè dopo la collab Monster Hunter, e dopo l'anniversario, quindi con Kamura e Bahamut Rod, praticamente Eris è diventato un mostro, all'interno del campo di battaglia, almeno per quanto riguarda di più il team fisico, dato che comunque mi permette di pompare l'attacco fisico, di proteggermi, e quindi è più improntata verso il fisico. Barret, invece, adesso si sta incentrando sul magico, visto che con l'ultima arma del banner, da difesa magica e attacco magico a tutti, che quella era l'arma che io in realtà avrei voluto su Matt, ci tengo a precisarlo, perché quell'arma su Matt avrebbe reso Matt, non dico ai livelli di Eris, ma forse anche superiore, dato che Matt ha tutte le armi, praticamente, maxabili, tramite wishlist, tramite ticket, tramite sculata in generale, mentre invece Eris è forte, ma perché dipende comunque dalle armi crossover, o limit break, quindi armi che non sono facilmente reperibili, mentre invece Matt avrebbe comunque quel guizzo in più di essere un personaggio eccezionale, praticamente free to play, quindi la versione free to play di Eris. Ed è un peccato, perché in realtà una collab, dove si possa in un qualche modo evidenziare anche il potenziale dei personaggi dei First Soldier, sarebbe interessante, e qui praticamente ormai stiamo capendo, ormai dopo un anno di gioco, che investire sui personaggi di First Soldier è praticamente inutile, quasi, tranne per Glenn Acqua, che rimane praticamente un top, un mostro sacro, per il suo setup Acqua, con la Slay the Day, e l'arma ovviamente fisica Acqua, avuta nel mezzo anniversario, nel limit break mezzo anniversario, Matt che invece ha tutte le sue armi più forti, tranquillamente wishlistabili, come centipede, siringone, veramente tutte le armi di Matt, che sono tranquillamente wishlistabili, l'unico costume veramente interessante di Matt, è quello da medico, che se non l'avete preso, è un gran peccato, quello è un vestito, che per Matt è praticamente perfetto, è un vestito che non cambiereste mai più, almeno per chi usa Matt come supporto. Lucia purtroppo, è forse il personaggio più scarso di First Soldier, perché fa un po' di tutto, ma lo fa male, non ha nessun Arcanum, diciamo di grosso spessore, non ha armi che comunque facciano tanti danni in qualità, come per esempio Cloud o Sephiroth, che hanno comunque delle buone armi, che fanno comunque dei danni in generale, quindi è un po' un peccato, che i personaggi di First Soldier, siano un po' messi da parte, e che quindi ovviamente vengono premiati, e comunque vengono potenziati sempre gli stessi. Però Final Fantasy VII è questo, quindi Cloud, Sephiroth, Tifederis, sono i protagonisti di questa collab. Kefka ovviamente è il boss, e lo avremo praticamente in tutte le salse, quindi sia le X e probabilmente anche le Crash, vedremo un po' come funziona la situazione. Per quanto riguarda ovviamente il crossover, qui abbiamo la data di annuncio, ecco, e qui abbiamo praticamente, c'è anche Anjil, quello tecnicamente è Anjil, e quindi forse avremo una skin free to play per Anjil, che si può farmare tramite l'evento, perché o ci stanno nascondendo qualcosa, perché quello è palesemente Anjil come personaggio, a me sembra essere Anjil, quindi o c'è una skin free to play che tramite collab possiamo comunque farmare per Anjil, giusto per dargli qualcosa, e non sarebbe male, in realtà, mi farebbe anche piacere una skin free to play da avere, diciamo, gratis per Anjil, che tra l'altro è anche bella esteticamente, se la guardiamo così, e poi invece Aeris, che comunque sia, possiede appunto il vestito di terra, quindi l'outfit di terra, ma lei era molto scontata, anche la somiglianza, diciamo, diciamo, di corporatura è abbastanza evidente, quindi avere Aeris che impersonifica terra, che comunque terra aveva a che fare con Jesper, invece Aeris è l'antica, quindi hanno questi poteri sovrannaturali, ci stanno perfettamente sia come fattore estetico, ma anche come lore, diciamo, del personaggio. E se guardiamo l'arma, come potete notare, vedete, abbiamo praticamente questi fasci, o comunque queste sorte di falci, di vento, sembrano essere, perché il colore è verdognolo, vedete, ci sono questi riflessi, questi sparks, chiamiamoli così, verdi, e quindi suppongo che si abbia un'arma vento. Il problema è che Aeris ha già il vestito Arcanum, vento. Quindi la mia ipotesi più probabile è che stiano dando le armi elementali per completare i kit dei vestiti che già abbiamo. Nel senso, dato che Aeris è già uscito Arcanum vento, chi non ha avuto la possibilità di poter pullare Aeris vento, adesso potrà pullare questa nuova versione di Aeris vento, perché è molto probabile che avremo comunque un Arcanum vento con possibilmente la prima statistica diversa, perché ormai gli Arcanum hanno perso praticamente quella caratteristica di avere danno magico, fisico, quindi P-Attack, M-Attack, che è un bene, in modo tale che adesso gli Arcanum possono essere più generalizzati come magici fisici, però ricordiamoci sempre che l'arma associata al costume è quella che identifica il kit. Aeris così diventerebbe un DPS vento autonomo, avendo comunque la Floral Wand, che permette comunque di ridurre difesa fisica e resistenza vento, quindi se quest'arma fosse single target danno fisico vento non mi stupirebbe più di tanto e mi consentirebbe di chiudere praticamente il kit di Aeris DPS vento, che per Titano, sinceramente parlando, potrebbe essere utile, perché Titano, essendo di terra, è molto probabile possa essere debole al vento, ok? Quindi piccola supposizione extra. E il vestito è molto probabilmente sarà comunque un Arcanum con magari un attributo in particolare, quindi non soffermiamoci sul classico buff, debuff extension, HP, P-Attack, M-Attack, eccetera, eccetera. Potrebbe essere anche un buff unico come abbiamo avuto con i vestiti di Bamut, come abbiamo avuto comunque in generale con altre tipologie di vestito, quindi prendiamola un attimo per come viene. E secondo me, appunto, potrebbe essere questo attacco single target vento proprio per accoppiarlo con la Floral Vand, o comunque accoppiarlo anche con l'altra arma di Aeris, vento, che però, se non ricordo male, era o è. Quindi potrebbe effettivamente essere la chiusura del kit per quanto riguarda Aeris, ovviamente sempre come DPS vento, a meno che, appunto, diono un attacco fisico vento in modo tale da renderla praticamente factotum per avere attacco magico e per avere anche attacco fisico vento, quindi per poterla sfruttare praticamente in qualsiasi situazione. Mentre invece, successivamente, abbiamo Cloud, che tra l'altro quello mi sembra Seed, se lo vedete sembra Seed, però non penso sia lui, però va bene. E praticamente Cloud, invece, ha l'outfit di Locke. Outfit di Locke con arma che sembra essere non elementale. Quindi, anche in questo caso, come potete vedere, Cloud ha questo bagliore praticamente violaceo con questo attacco così, molto particolare, che però non mi sembra essere elementale. Anche se lo sfondo potrebbe ingannare e potrebbe essere ghiaccio. Perché dico che potrebbe essere ghiaccio? Perché comunque Cloud possiede già la Stream Saber, che è un'arma a ghiaccio estremamente forte. Quindi, se quest'arma fosse un'arma debuff ghiaccio, o comunque forse fosse un'arma che per l'appunto mette, che ne so, difesa, down, imperil, ghiaccio, potrebbe comunque essere un'ottima chiusura per il kit che abbiamo anche di Cloud ghiaccio. Quindi ecco perché io sto andando un po' così a guardare quelle che possono essere le armi, perché secondo me queste sono tutte armi che vanno a chiudere i kit che praticamente abbiamo già dei nostri personaggi e che chi non ha potuto recuperare può magari iniziare a buildare. Quindi è probabile che comunque quest'arma di Cloud possa essere una non elementale, perché vedete appunto che non vedo... Anche se vedete questo attacco così, quando attacca così, vedete questa sorta di aura, si vedono delle scariche, no? Tipo dei piccoli fulmini, ma non credo che quest'arma possa essere di tipologia tuono, anche se Cloud è nato col tuono, perché la Murasame e il suo vestito, il suo primo vestito era per l'appunto l'Arcanum tuono fisico, potrebbero magari pensare di fare una versione Arcanum nuova, una versione Arcanum 2.0, dove appunto magari mi mettono il danno elettrico con magari qualche altro buff che mi consenta di diventare più forte e quindi dare come dire un nuovo lustro a quello che era la Murasame di Cloud, che è una delle... che è la prima arma che abbiamo avuto all'interno del gioco e che ci ha accompagnato per diverso tempo. Anche se, però, l'attacco di per sé potrebbe effettivamente a mio avviso essere comunque un ghiaccio o tuono. Successivamente abbiamo Tifa, che vabbè, lei praticamente è sempre bella come non mai, cioè guardate quanto è bella anche nei panni comunque di Sabin è veramente bellissima. Tifa rappresenta il prototipo della donna ideale, c'è poco da dire dal punto di vista fisico parliamo, poi caratterialmente ancora di più perché per me Tifa è proprio la waifu per eccezzi, è proprio messa lì per antonomasia in cima, però va bene così. E fa un attacco molto bello, è una Kamehameha ragazzi, proprio letteralmente, guardate, una Kamehameha che potrebbe tranquillamente essere un attacco non elementale oppure se notate il colore potrebbe anch'essa essere ghiaccio. Io non mi stupirei comunque di avere l'elemento ghiaccio perché comunque l'elemento ghiaccio lei possiede già se vi ricordate bene la skin di Natale con Arcanum e ghiaccio e anche i guanti di Natale Arcanum e ghiaccio fisico. Non mi stupirebbe se quest'arma comunque mettesse non dico imperil ghiaccio anche questa però una riduzione con magari l'aumento della potenza ghiaccio per Tifa stessa potrebbe essere un'altra arma che va a chiudere il kit ghiaccio che abbiamo avuto l'anno scorso con Tifa. Quindi capite bene che almeno il mio ragionamento o comunque il mio pensiero laterale si ferma e si fissa su quello che abbiamo già nel gioco. potrei sbagliarmi ovviamente però io cerco di essere previdente perché se questa collab risultasse essere una chiusura di kit per i nostri personaggi è una collab schippabile ed è la prima volta che parliamo in generale nel gioco di una collab schippabile a meno che ovviamente vi piacciono gli outfit e allora lì dice va bene io vado fino all'outfit quello che è però sinceramente parlando pullare l'outfit senza magari cercare anche l'arma non so fino a quanto possa essere conveniente e quindi tifa comunque potrebbe essere una chiusura di kit anche per quanto riguarda il suo kit di natale è vero che questo costume potrebbe avere comunque arcanum ghiaccio e poi magari un altro buff unico al posto di attacco fisico hp e tutto quello che è che ovviamente potrebbe essere interessantissima come cosa però l'attacco di per sé è bellissimo l'animazione dell'attacco di per sé è bellissima questa sorta di questa kamehameha stupenda veramente stupenda e poi invece infine abbiamo quello che mi preoccupa di più sefirot sefirot con il vestito di edgar ha un'arma e un attacco palesemente fisico acqua quindi sefirot ha già la tempest che è comunque un'ottima arma acqua perché mette imperil e al tempo stesso fa danno sinceramente parlando avere un'arma acqua che faccia danno senza fare nient'altro cioè un'arma che faccia solo danni acqua come per esempio la maritim di cloud o comunque qualsiasi altra arma acqua che fa solo danno risulterebbe essere un grosso spreco a mio avviso perché comunque già la la tempest la reputo un'ottima arma è vero che ha un 700% ob10 come moltiplicatore però è un'arma free to play nel senso che comunque si può ottenere tramite ticket o comunque si può ottenere tramite banner wishlist eccetera eccetera mentre invece questa potrebbe avere sicuramente un moltiplicatore più alto parliamo anche di 900-1000 come moltiplicatore che è molto più pesante dal punto di vista di danno però metterlo insieme al kit con una tempest mi risulterebbe essere un po' pesante a meno che questa arma come quella di glenn quindi come la slay the day potrebbe tranquillamente essere un'arma di buff o comunque di auto buff quindi magari che ne so riduzione della difesa fisica e in più aumento del danno acqua che può fare sephiroth proprio per aiutarlo ancora di più a spingere con la sua tempest che appunto mette imperil cioè avrebbe comunque un kit se ovviamente costasse tre barre a tb avrebbe un kit incredibile anche perché il vestito arcanum di sephiroth è un buff debuff extension quindi avere un'arma che mi consenta di mettere dei debuff e dei buff ovviamente al personaggio di sephiroth andrebbe a chiudere il kit in modo eccezionale quindi avere la possibilità di potenziare l'acqua di ridurre la difesa e al tempo stesso mettere l'imperil acqua renderebbe veramente sephiroth non so ovviamente non ai livelli di glenn perché glenn dal punto di vista acqua fisico è mostruoso però potrebbe tranquillamente essere un'ottima alternativa un'ottima sostituzione il vestito potrebbe tranquillamente essere un altro vestito arcanum 2.0 quindi un nuovo arcanum con una nuova tipologia di buff o comunque una nuova tipologia di roba anche se il costume di sephiroth che abbiamo già preso con la tempest acqua buff debuff extension penso che sia già perfetto per la causa quindi questa potrebbe sicuramente essere un'alternativa e come potete vedere tutte le goccioline d'acqua che si vedono sull'arma e poi il danno che praticamente ha un'animazione molto simile a quella che è la tempest se non addirittura identica all'animazione della tempest quindi potrebbe essere un'arma che fa solo danno tranquillamente potrebbe essere un'arma che fa solo danno acqua così come invece potrebbe essere una bella arma con 3 atb che mi dà i vari bonus e successivamente mi consente di sfruttare appieno la tempest in modo ordinato ed efficiente in generale quindi io penso che come analisi di trailer possa bastare abbiamo detto tutto poi ovviamente per quanto riguarda l'acqua è palesemente cioè l'attacco è palesemente acqua come potete vedere e credo che possa essere per l'appunto la chiusura di tutti i kit cioè questa è una collab che praticamente chiude tutti quanti i kit che abbiamo avuto in questo in questo anno di gioco con i vari personaggi di eris cloud tifa e anche sefirot il boss poi qui abbiamo la presentazione del boss di kefka che sarà il boss che ovviamente ci accompagnerà nella nostra nei nostri stage ex nei nostri stage anche possibilmente crash rivedremo forse le crash all'interno del gioco quindi questo è quello che al momento io penso di questa collab ditemi voi cosa ne pensate fatemi sapere voi cosa pensate di questa collab se siete d'accordo o non siete d'accordo io per il resto chiudo qui vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima